Allora ragazzi, brutta sconfitta con gli Spardamo, potevate approfittare della sconfitta, ahia, del Real Team? Vabbè, erano forti, una delle più forti, una delle più forti finora affrontate, meglio degli Pulchishersi secondo me. Addirittura? Secondo me sì. Hai del Bayern Lever 2, soprattutto. Anche l'abbiamo affrontato, non lo sappiamo, non parliamo di tutti. Non lo sappiamo. Miglior in campo, c'è qualcuno da salvare oggi? Nessuno, tutti bocciati. Il pavo. Il nome del butto è comandato oggi? Di Stefano, una vecchia conoscenza. Aveva che fare. Comunque, chiunque ce ne importa, segnavano. Il prossimo torno ci sono gli Special 5. L'altra apposta. Partita tosta. Sai che non ci sono io. C'è infortunato, Prano. Quindi siamo avanzati. Una puntatella, una puntatella. Trovo un portiere, gioco io. E se vince, forse. Se trovi un portiere puoi giocare. Un altro portiere. Ehm, dobbiamo trovare un portiere, gioca lui, vi ho detto. A posto. A posto, va bene. Speriamo che questi punti che abbiamo ora ci bossano per arrivare in playoff, perché non ne faremo più. Ma chi lo sa, chi lo sa. Questo è che ci bossa e siamo a posto. Chi lo sa, chi lo sa. Prego, prego. Prego, prego. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima. Va bene. Ok, ciao ciao.